Buonasera a tutti amici carissimi, bentrovati per questo consueto appuntamento che a noi fa tanto piacere, giusto? Perché ci ritroviamo come fratelli, come amici, come famiglia per salutarci, per darci la buona notte e allora vogliamo insieme benedire il Signore per tutti i suoi benefici, per la sua presenza nella nostra vita. Vogliamo ringraziarlo per la sua benedizione e vogliamo anche chiedere perdono se oggi in qualche modo, con la parola, con i gesti, con il comportamento, non lo abbiamo testimoniato pienamente oppure abbiamo sbagliato in qualche cosa. Signore abbi pietà di noi per le nostre mancanze. Ecco, volevo ancora una volta ricordare un appuntamento per quanto riguarda gli amici che vivono a Palermo o nei paesini vicini. Il 31 agosto alle 18.30 celebro la Santa Messa nella parrocchia San Giuseppe in zona Leonardo da Vinci, quartiere Rigano. E per tutti invece alle 18.00, il 31.00, concludiamo la novena a Maria che scioglie nodi, quindi il 31.00 non di mattina ma di pomeriggio, visto che io durante il giorno, la mattina, sarò in viaggio per Palermo. Quindi mi raccomando segnatevi questo cambiamento. Ora preghiamo insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci vediamo domani mattina alle 7 per la novena Maria che sciogliono del Santo Rosario e alle 15 con la coroncina alla Divina Misericordia. Grazie.